buongiorno bella gente buongiorno oggi alle nove devo alzare in clinica e quindi mi sto avviando sono le nove meno venti e tra un po c'è tra un po sono già arrivato sarà di fronte ma chiaramente penso sia chiusa ora andiamo a vedere iniziamo questa avventura a a a a a Grazie a tutti. Siamo qua con alcuni pazienti del dottor Palmas, lui è venuto prima di me e già tiene i provvisori, guardate che denti, lei invece è tornata per mettersi i definitivi, madonna mia, ma che è, un'attrice, i denti degli attori, lui è un accompagnatore, non fa niente, è venuto qua a perdere il tempo. Grazie a me, vediamo a me che cosa succederà, per il momento ancora niente, la vista tua è più bella però perché tu hai visto l'ago, hai visto l'ago dall'albergo, bella, a me no, c'è un palazzo e gli alberi. Ehi Angelo, come sta Gaia? Fammela vedere. Mamma e figlia, di nuovo insieme, tutte contente, soddisfatte. Ehi Gaia, questa la mandiamo a Claudio, eh? Claudio, dove sta Claudio? Eh? Tornata la sua cuccia iniziale. Saluta Claudio, ciao Claudio, ciao Claudio, come vedi sei in perfetta forma, va bene, mangia, gioca, la faccio correre ogni tanto e insieme alla mamma. Saluta Claudio, ciao Claudio, ciao Claudio. Ho ancora i denti, quindi si può cenare qualcosa. Siamo in albergo, carino l'albergo, Natale. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Ecco Gaia Mila e il biondo Per me hanno fatto proprio legame per il sangue Gaia Ehi 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 Ehi